Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Riciclatec, la rubrica di RiciclaTV dedicata all'innovazione tecnologica nel mondo dei rifiuti. Salvare i rifiuti dalla discarica e creare nuove opportunità di business per trasportatori e riciclatori. Questo è il duplice obiettivo di Rubicon Global, la start-up che punta a rivoluzionare il mondo del waste management negli Stati Uniti, una rivoluzione all'insegna della sharing economy. Negli Stati Uniti la chiamano già la Uber dei rifiuti perché, come a suo tempo fece l'app che avrebbe poi rivoluzionato il mondo dei trasporti, promette di riscrivere le regole del mercato, in questo caso quello della raccolta smaltimento del pattume. Secondo il paradigma della sharing economy, è Rubicon Global, l'app a stelle e strisce che mette in contatto diretto chiunque abbia necessità di smaltire i rifiuti con le imprese di trasporto e gestione del pattume. Per ogni richiesta di smaltimento postata sulla piattaforma online di Rubicon, l'app valuta qualità e quantità dei rifiuti ed elabora una strategia di gestione ideale privilegiando il riciclo ed ogni altra soluzione gestionale alternativa alla discarica, soprattutto se a dover essere smaltiti sono rifiuti ai quali sia possibile dare una seconda vita. Quindi la richiesta viene inoltrata ad una serie di operatori di mercato indipendenti che possono a loro volta postare la propria offerta, lasciando il richiedente libero di scegliere quella capace di coniugare al meglio convenienza economica e sostenibilità ambientale. Il beneficio insomma è doppio, da un lato si punta alla diversion, ovvero a deviare il rifiuto dalla discarica verso i canali del riciclo, dall'altro si sfruttano invece i meccanismi della concorrenza e delle economie di scala per garantire risparmi alle imprese produttrici di rifiuti. Una scommessa sulla sostenibilità, quella di Rubicon, che può già vantare risultati di tutto rispetto. 400.000 le tonnellate di rifiuti salvate dalla discarica nel solo 2015. Una vera e propria rivoluzione, tanto più che sul fronte della gestione del pattume gli Stati Uniti non brillano certo per virtù, né tanto meno, strano a dirsi, per libertà del mercato. Il 46% di tutto ciò che finisce nelle nostre discariche, commentano infatti gli sviluppatori di Rubicon Global, è rappresentato da materia riciclabile. Come se non bastasse, aggiungono, il 65% dei rifiuti prodotti negli Stati Uniti è gestito da un oligopolio composto da poche grandi società di trasporto e smaltimento proprietarie di discariche. Un modello rigido e sorpassato, spiegano, mentre il nostro modello, basato sulla tecnologia, mette invece in connessione diretta produttori e trasportatori indipendenti, garantendo risparmio e creando potenziale ritorno economico per i flussi di materia riciclabile sottratta alla discarica, ma soprattutto contribuendo alla costruzione di strategie sostenibili di business. Insomma, una vera e propria dichiarazione di guerra allo status quo della gestione rifiuti a stelle e strisce, come del resto suggerisce anche il nome scelto per l'app. Guerra che gli sviluppatori di Rubicon puntano a muovere contemporaneamente su due fronti, quello economico, provando a scardinare l'oligopolio dei padroni delle discariche e a far leva sulla creazione di occasioni di business per gli operatori indipendenti del trasporto rifiuti e del riciclo, e quello ambientale, promuovendo con l'ausilio della tecnologia una svolta ecosostenibile nelle coscienze di cittadini ed imprese, in quella che ancora oggi è la patria globale dell'usa e getta. Dalle stampanti 3D alle 3D pen, la tecnologia dei makers 2.0 si fa sempre più green, con strumenti semplici e geniali che sottraggono materia ai rifiuti e la mettono a disposizione della creatività. L'ultima arrivata in ordine di tempo è Renegade, che in meno di 20 giorni ha già raccolto più di 30.000 sterline su Kickstarter. Dopo il boom delle stampanti 3D, una delle tendenze più in boga tra i makers di tutto il mondo è la 3D pen, accessorio più o meno portatile in grado di far letteralmente sollevare dal foglio le creazioni di artisti e progettisti. Questi tratti di penna a tre dimensioni sono evidentemente di plastica fusa che raffreddandosi si solidifica presso chi all'istante. Il principio è lo stesso delle stampe 3D, vere e proprie, ma ne eredita anche limiti e difetti. Uno di questi sono i filamenti di plastica che alimentano questi apparecchi, in alcuni casi anche piuttosto costosi. Non è il massimo per chi spende un centinaio di dollari per acquistare uno strumento del genere, dove vedersi costretto a comprare la materia prima necessaria al prezzo di 200 dollari al chilo, senza contare l'impatto ambientale di una tendenza che finirebbe per incrementare i consumi di plastica vergine. Per questo è stata ideata Renegade una 3D pen alimentata da plastica riciclata. Insieme alla penna viene infatti venduto un pratico strumento, il chupacat, che permette di trasformare le comuni bottiglie di plastica in lunghe strisce, regolabili anche per dimensioni, perfettamente in grado di sostituire i filamenti recuperabili sul mercato. È sufficiente riscaldare la bottiglia, tagliarne la base, estendere il supporto del chupacat e fare della bottiglia in pezzo una lunga strisciolina di plastica pronta per alimentare l'apparecchio. Operazione ripetibile anche con le buste di HDPE, magari aiutandosi con un ferro da stilo ed un trio da documenti. Le idee di Renegade e del chupacat sono lanciate da Daniel Edwards sulla nota piattaforma di crowdfunding Kickstarter, superando in meno di 20 giorni l'obiettivo di 25.000 sterline che all'inventore londinese si era prefisso. A questo punto possiamo aspettarci che ben presto la sua creatura possa entrare in produzione raggiungendo i primi donatori per arrivare sul mercato nel corso del prossimo anno. Nuova energia dalle batterie esaosta e grazie ad un innovativo processo messo a punto dal colosso Energizer, dalle pile a fine vita sarà recuperata una quota di materia che verrà poi reimmessa nel ciclo produttivo. Il celeberrimo coniglietto rosa da domani sarà alimentato dalle prime batterie in assoluto realizzate riciclando, strano ma vero, batterie esauste. Energizer ha lanciato sul mercato la nuova linea Eco Advanced di pile alcaline doppia e tripla A, le prime a contenere una quantità, anche se minima al momento, di materia recuperata dalle batterie esauste finite nel cestino, frutto di una ricerca durata sette anni. Zinco e manganese estratti dalle pile esauste vengono trattati secondo uno speciale procedimento e reimmessi nel ciclo produttivo. Anche se per ora la percentuale di materiali riciclati è ferma al 4%, spiegano i ricercatori Energizer, lavorando ulteriormente al processo sarà possibile spingere la quantità di materia riciclata fino al 40% entro il 2025. Fino ad ora spiegano le batterie post-consumo erano ritenute prive di valore e quindi poco convenienti da riciclare. Ora che la tecnologia è stata messa a punto, creando valore economico laddove invece prima non ce n'era, è lecito aspettarsi un'impennata degli investimenti in questo particolare settore. Nella conferenza stampa di launch delle nuove batterie, Energizer ha spiegato che le Eco Advanced non sono solo vantaggiose per l'ambiente, riducendo grazie al riciclo la quantità di materia vergine estratta in miniera, ma anche per i consumatori, dal momento che grazie all'approccio innovativo derivante dall'introduzione del mix di sostanze riciclate, le nuove batterie dureranno di più, meno materia estratta dunque e meno rifiuti in discarica, una soluzione quella di Energizer vantaggiosa per le tasche e per l'ambiente. E con questo è tutto, Riciclatec termina qui e vi dà appuntamento alla prossima puntata, sempre qui su RiciclaTV, grazie e arrivederci.